è un'immagine quella spettacolare quella dei due personaggi in questione durante i mondiali di atletica di doha bubsi 33 anni di età viene da aruba e sta disputando la sua prima gara dei 5.000 metri maschili l'arrivo è lì non lontano da lui solo 250 metri mancano è però completamente privo di forze è stremato sfinito da una fatica tremenda così crolla per terra sulla pista rossa dello stadio califa alle sue spalle arriva da boh 26 anni di età della guinea bisau si ferma lo prende per un braccio e lo va a rialzare quei 250 metri che mancano all'arrivo li svolgono insieme abbracciati davanti a un pubblico in disipidio non ci sono avversari in quel momento in quell'istante soltanto la voglia di concludere insieme nonostante le avversità nonostante le difficoltà entrambi gli atleti riescono a segnare la migliore prestazione personale un risultato garantista che conta ben poco ma la vittoria nello sport ovviamente è di tutt'altra capacità di tutt'altro tenore vi ringrazio in primis per la visione di questo video di oggi vi ringrazio in secondi spiega relativo ascolto iscrivetevi se vi va mi raccomando commentate un cordiale saluto a voi da leandro arias narratore italiano